In Consiglio regionale si è aperto il dibattito sulla riforma della sanità, un'occasione quindi da sapere cogliere. Sì, è proprio così. La riforma della sanità arriva in Lombardia dopo che la legge 23 del 2015 è scaduta. Era una sperimentazione scaduta appunto a dicembre del 2020 e deve essere obbligatoriamente cambiata. Il momento però è propizio anche per altre ragioni. Da un lato la pandemia ha messo in luce, da un lato la professionalità e la dedizione di tanti operatori sanitari e di tante persone, ma anche alcuni limiti strutturali del sistema che devono appunto essere rivisti. In più il piano nazionale di ripresa e di resilienza dà delle risorse straordinarie, per cui fare una riforma con risorse che appunto devono essere destinate alla sanità territoriale, alla digitalizzazione, a tanti altri aspetti di miglioramento del sistema sanitario, è appunto una grossa occasione. La si fa in Lombardia perché se è vero che noi abbiamo alcuni dei migliori ospedali d'Italia, questo non è sufficiente se poi sul territorio mancano i medici di base, se la prevenzione è carente, se c'è uno sbilanciamento tra strutture nei centri e nelle periferie. Insomma, ci sono alcuni aspetti che devono essere affrontati appunto per avere un sistema sanitario che sia sempre più centrato sui bisogni delle persone. Si discute molto sul rapporto tra sanità pubblica e privata. Immaginiamo che questo sia un tema in grado di accendere anche il dibattito. Sì, in Lombardia si è sperimentato nel corso degli ultimi oltre vent'anni una presenza massiccia di strutture private accreditate in gran parte che arrivano oggi a derogare quasi il 40% delle prestazioni totali, per cui è un pezzo che nessun'altra regione ha in questa misura. Il problema dal nostro punto di vista è che in Lombardia si è sviluppata una logica di puro profitto, per così dire, che spinge le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, a erogare, a migliorarsi nell'erogazione di cure che sono molto remunerative, cioè di cose che rendono molti soldi, lasciando invece indietro ciò che è meno remunerativo e ciò che di soldi ne rende meno, ma che è altrettanto importante, anzi a volte indispensabile, per la salute dei cittadini. Penso alle cure primarie, alla medicina di base, a tutta quella sanità territoriale sulla quale si vorrebbe migliorare. Per cui non è tanto e non è solo questione di pubblico privato, ma è di ciò che rende di più o ciò che rende di meno e un sistema sanitario più equilibrato deve riuscire a recuperare in Lombardia sulle seconde cure. Questo si fa con una regia pubblica che sia più forte, per cui la Regione deve stabilire territorio per territorio quali sono i bisogni di quel territorio, quali sono le cose che vanno erogate lì e appunto indirizzare l'iniziativa sia delle strutture pubbliche che di quelle private su quello che serve, su quelle che sono le cose che servono alle persone, non lasciando semplicemente una libera iniziativa che si muove appunto in una logica di profitto, non di bisogno. Questo o non innanzitutto di bisogno, questo è uno degli aspetti che va sicuramente riequilibrato. La pandemia sicuramente ha lasciato degli effetti, ora i cittadini hanno una maggiore consapevolezza sull'importanza delle strutture territoriali e sulle risposte che possono essere trovate vicino a casa. Immaginiamo che anche questo sia un altro tema molto importante per una riforma della sanità. Sì, tutto quello che sta più vicino alle persone, per cui i medici di base, gli infermieri di famiglia, le RSA, i CSE, i CDD, le farmacie, i consultori, appunto tutte quelle strutture che sono dislocate sul territorio devono dal nostro punto di vista essere potenziate e integrate dentro una rete di servizi territoriali di qualità. Questa deve essere la base della riforma, deve essere il punto su cui si investe di più, sia in termini di numeri, per cui di personale, di medici, di infermieri, che devono essere anche riportati nei territori più periferici con incentivi economici e di carriera ad hoc. Questa rete che si sviluppa attraverso distretti deve essere appunto potenziata, perché bisogna curare le persone il più possibile a casa o vicino a casa e lasciare al pronto soccorso le sole emergenze. Questa è la questione, per cui dobbiamo riuscire a dare delle risposte ai bisogni di cura delle persone che siano il più possibile vicini a casa. Soprattutto con una popolazione che invecchia e con una percentuale di persone anziane molto alta, la domiciliarità deve essere il punto su cui si investe di più. In questo senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha degli obiettivi molto ambiziosi per far sì che l'assistenza domiciliare, le visite, gli esami a domicilio possano diventare una prassi per molte più persone rispetto ad oggi. Potrebbe essere questo il momento anche per guardare a qualche modello organizzativo anche fuori regione per importare quanto funziona probabilmente anche meglio rispetto a quanto accade a casa nostra. Non per dire che la nostra sanità faccia acqua da tutte le parti, però insomma si può guardare anche un po' fuori dal perimetro della regione. Io credo sia il momento assolutamente di farlo, perché come dicevo prima, se ci sono degli ambiti che sono effettivamente di eccellenza, come quello di alcune strutture ospedaliere tra le migliori d'Italia, alcune operazioni chirurgiche tra le più all'avanguardia al mondo, però ci sono altri pezzi del sistema sanitario che non sono di eccellenza in Lombardia e sui quali invece ci sono tanti problemi. Per cui guardare per esempio al Veneto, per esempio all'Emilia Romagna, rispetto all'organizzazione della sanità territoriale è un bene, perché ci aiuta a provare a confrontare il nostro modello con altri e capire quali sono gli aspetti di possibile miglioramento. Io credo che ci siano, come dicevo sul lato della sanità territoriale, delle grosse possibilità di innovazione attraverso delle strutture, anche fisiche che possano essere case della comunità, case della salute, in Emilia si chiamano case della salute, che integrano la presenza di medici di base in forma associata, specialisti, infermieri, appunto piccole strutture dislocate però sul territorio che diano una risposta senza bisogno di fare riferimento a tutti i costi all'ospedale, appunto offrendo una sanità più vicina con personale più integrato e con una presa in carico delle persone che sia a 360 gradi, non sia soltanto appunto pago per avere una prestazione però nessuno mi segue. Questo è uno dei problemi che c'è nel nostro sistema e che riguarda peraltro in particolar modo le persone fragili, disabili, le persone che hanno bisogno non soltanto appunto di una prestazione, ma di un accompagnamento costante che può durare mesi, anni, che può durare tutta la vita e questo ha bisogno di figure dedicate e di un sistema che sia in grado appunto di prenderti in carico, di prendersi in carico di te per tutta la durata del tempo in cui ne hai bisogno, affiancandoti di volta in volta il personale, gli specialisti, le strutture necessarie, a volte invece si ha l'impressione, o meglio c'è la percezione reale di una solitudine nelle quali vengono lasciate le persone fragili, a districarsi appunto tra i diversi erogatori di prestazioni senza che però ci sia quell'accompagnamento invece di cui c'è estremo bisogno e che in altre regioni si è sperimentato con maggior successo. E poi ci sono temi che da tempo sono al centro dell'attenzione come le liste d'attesa, i costi, i servizi che vengono meno nelle zone più periferiche e montane, immaginiamo che questi saranno argomenti in agenda. Sì, riguardo al rapporto tra centri e periferie è giusto che le alte specialità si concentrino nelle strutture centrali, principali, ma non possiamo pensare che esistano cittadini di serie B o di serie C o di serie D e quindi anche nei territori periferici ci vuole un maggior investimento rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni sia in termini di reparti, di strutture che di personale. Questo è un aspetto irrinunciabile che deve essere realizzato appunto a maggior ragione con le risorse straordinarie che ci sono e che devono anche riportare nei territori periferici, medici e operatori. Vale per gli ospedali, vale per le strutture territoriali, per l'RSA, ci sono tanti ambiti nei quali abbiamo visto una difficoltà a reperire personale e questo deve essere recuperato appunto in questo momento. È così anche per quello che riguarda un'altra disparità, ovvero tra persone che hanno più disponibilità economiche e persone che ne hanno meno, perché se è vero che curarsi è un diritto di tutti, le liste d'attesa così lunghe negano il diritto alla salute e negano il diritto per alcuni, perché chi non ha risorse economiche tali da potersi permettere una prestazione privata a volte deve aspettare veramente mesi e mesi e mettere a rischio la propria salute. Questo è un altro aspetto di ineguagliante, di ingiustizia che deve essere affrontato. Per cui soprattutto per le patologie croniche il costo di alcuni farmaci e di alcune prestazioni è molto alto e deve essere ridotto e soprattutto per le fasce meno abbienti il costo appunto di queste prestazioni deve essere azzerato. Per cui sono due aspetti, centro periferia e costo delle prestazioni, che dovranno essere centrali appunto nel dibattito sulla riforma. Riallacciandoci ai servizi sui territori è sempre aperto il tema dei punti nascita anche di casa nostra. Sì, è un tema molto caldo anche appunto a casa nostra, anche in Valle Seriana, perché qui abbiamo assistito prima alla chiusura del punto nascita di Piario e poi alla sospensione di attività di quello di Alzano, sul quale non abbiamo notizie di una ripresa. Per cui io credo che se è vero che l'invecchiamento della popolazione, soprattutto nelle valli, porta a doversi concentrare moltissimo nei servizi da erogare per la fascia anziana, non possiamo però dimenticarci dei giovani e del futuro. Per cui delle persone che vogliamo, continuino a poter immaginare di costruirsi il proprio futuro, il proprio progetto di vita nelle valli e nelle zone montane. E uno degli aspetti indispensabili sono i servizi, sono ad esempio il punto nascita, io credo che quello di Piario debba riaprire, così come ambulatori pediatrici, così come il pronto soccorso pediatrico, i servizi per le famiglie, tutta un'attenzione specifica su una fascia giovane che invece troppo spesso viene dimenticata o si dice, vabbè i numeri sono bassi per cui non ne vale la pena. Ne vale come la pena perché non possiamo limitarci a inseguire numeri che sono bassi, dobbiamo cambiare quei numeri, dobbiamo cambiarli con opportunità di lavoro, con servizi, e questo passa anche appunto dal lato sanitario e da un'attenzione specifica su quelle zone che peraltro negli ultimi anni hanno perso di più. La riforma sulla sanità deve sapere anche interpretare quelle che saranno le necessità del futuro? Sì, c'è un altro aspetto che riguarda la riforma sanitaria ed è particolarmente citato nel Piano Nazionale di Ripresa che riguarda l'innovazione e la digitalizzazione. C'è un aspetto che è quello della telemedicina che ci aiuta e che può consentire di fare da remoto, a distanza, alcuni consulti, alcuni contatti che si possono sviluppare anche tra specialisti e pazienti e che possono essere quindi fatti a patto che ci sia una struttura, un sistema di connessioni all'altezza. C'è tutta una parte di innovazione che può sembrare anche di base. È possibile che i sostituti dei medici di base non abbiano accesso ai fascicoli sanitari elettronici dei pazienti. Questo crea un grosso disagio per le persone, soprattutto in un momento in cui tanti territori sono sprovvisti di medico di base. Questa è una questione su cui bisogna intervenire per forza e farlo in maniera immediata. E così un'innovazione che riguarda la possibilità di fare prenotazioni, pagamenti, referti, tutto online o in farmacia, per cui o da casa propria o nel punto di accesso più vicino e le farmacie vanno sostenute e anche economicamente riconosciute per questo lavoro. C'è un aspetto appunto di innovazione e semplificazione che non ci dobbiamo dimenticare. L'ultimo aspetto che tocco riguarda le nomine, un altro dei compiti della politica e che deve essere affrontato dentro la riforma sanitaria. Io credo che i direttori generali vadano scelti privilegiando un criterio di merito, di qualità, di esperienze fatte e di risultati raggiunti. Devono essere valutati però non soltanto per il rispetto del budget, ma per la qualità delle cure che sui loro territori si riesce a garantire. Scelte non all'altezza sono poi invece un problema per la salute delle persone. Per questo va dedicata anche alle nomine una grossa attenzione verso appunto il merito e la qualità. Serve, citando un po' tutti questi punti di cui appunto ho parlato, una vera riforma, non serve semplicemente un piccolo aggiustamento. Ci sono, l'ho detto, ambiti di vera eccellenza dentro il sistema, ci sono tanti altri che però non funzionano. Per cui serve affrontarli e serve abbandonare appunto l'idea che invece vada tutto bene. Perché non si coglierebbe l'occasione di questa riforma, delle risorse straordinarie che abbiamo, di un miglioramento del sistema sanitario che è assolutamente urgente. Per cui noi faremo tutto il possibile perché questo accada. Speriamo si possa fare insieme alla Giunta, alla maggioranza. Speriamo che sia appunto una riforma da fare insieme. Noi però vogliamo che sia una vera riforma e questo sarà il nostro impegno per i prossimi mesi.